No, non gestiamo più in questo Stato, noi non gestiamo più in questo Stato, no che vogliamo non gestiamo più in questo Stato che mora, in questo Stato che mora, non gestiamo più, ma me l'hanno costruito in 10 minuti, ma sai che pazzo completamente questa porta meravigliosa, dove succede tutto a caso a caso a caso, dite le parolacce con la doppia S che sembrano poesione, allora state giù, state giù, cosa c'è, vado su io, vado su io, ma Dio